Salve, e niente, ho fatto corazione questa mattina guardando i telegiornali d'Italia, non ci ho capito una mazza, è tutto come prima, più di prima, quando prima, quanto prima, forse più di prima, però è tutto differente, è come prima, però differente, è più di prima, però meno di prima, io non lascerò che questo mi deprima, però l'Italia sta in depressione, e quello mi deprime, non la politica, che è quello che è sempre stato. Non so che pensare, dovreste fondare un movimento San Ten Chan. Raccogliete firme. Beh, io intanto continuerò a fare dei video, e voi commentatemi circa quello che succede là, perché io non ci capisco una mazza. Ciao E grazie per iscrivervi al mio canale.